...che non scherza anche con il portiere doppio della porta che lui è uomo d'esperienza siamo pronti e allora iniziano le stività subito palla nella metà campo finlandese che manovra con il numero 10 Nico scambia con Tony Doni sottoporta il primo tiro che però si infrange contro la barriera di protezione quindi riparte la Danimarca Danimarca con il numero 9 Martin Jewel che manovra questo momento alleggerisce sulla fascia sinistra nuovamente il gioco a disposizione delle fasce fino a che non ci si trova liberi contro il portiere come in questo caso si fa vedere squizza la traversa in tiro poca fortuna per lui nuovamente Finlandia in possesso di palla con il portiere il portiere finlandese adesso scontro fisico contro la barriera protezione di fondo campo rimessa in gioco per la Finlandia in questo momento manovra con il numero 10 il capitano nuovamente scontro fisico si entra in area di rigore e si interrompe il gioco nuovamente ed è il gol attenzione il capitano finlandese Axa Riniko porta in vantaggio la propria nazionale che si ripete davanti al portiere ma colpo di riflesso ciocattone del portiere danese che si salva così ecco l'arena civica storica ospita adesso in questo momento attenzione si immorra il portiere danese Anik Olesen due volte peccato il numero 7 il numero 7 della Finlandia poi va Niko 2 a 0 della nazionale finlandese subito contro piede della Danimarca che però non non si dispera deve subito recuperare ma va con il numero 6 danese Tim Maller Blues che porta sul 2-1 le ostinità ecco non vorrei sicuramente far offendere il portiere finlandese esprimeremo tutta la nostra amicizia a lui nuovamente Danimarca in possesso di palla attenzione precevole pallonetto a servire il numero 6 smarcato nuovamente il numero 8 danese Gianni Arre che manovra ed ha anche sfoggio molto di nobaggio molto di nobaggio il tocco era la palombella era proprio quella di di nobaggio attenzione grande agilità per il portiere finlandese Sky Kentoni che però non riesce a fare nulla sull'offensiva di Tim Maller Blues che parecce conti con la nazionale finlandese quindi situazione di 2 a 2 in questo momento interviene il direttore di gara e allora palla nuovamente in possesso della Danimarca grande fisicità fra i due avversari in questo momento schiacciati nell'angolo però recupera palla il nostro anche Dino Baggio danese che si scopre la caccia abbiamo anche ospiti famosi qui sulle nostre tingune in questo momento ripresa dell'ostilità palla il portiere danese che rimette in gioco con Johnny Are che manovra adesso sulla fascia il numero 6 di Malerbus perde malamente il possesso del pallone Finlandia che si proietta non è in fase offensiva apertura per il numero 3 finlandese che squadella al centro non trova però compagni pronti anzi una ribattuta pronta del portiere ma nuovamente in possesso di palla la Finlandia che attenzione in periodo il destro del numero 3 vediamo anche una partiera attuata per non dimenticare di che nazionalità è Maria Ale Miani ha portato la propria offensiva in area di rigore danese nessun problema per il portiere che sventa e rimette in questo momento in gioco il pallone subito pressato il difensore danese adesso palla nuovamente al centro campo è lì dove si fronteggiano maggiormente i giocatori per il possesso per la superiorità del campo incursione anche pericolosa e nuovamente si supera il grande Eric Olesen il portiere danese riesce a sventare i due interventi pericolosissimi della nazionale finlandese sembra di vedere Fabrizio Navarelli ma il nostro Fabrizio Navarelli immigrato in Danimarca è arrolato come portiere della Danimarca si tutta per terra in questo momento molto felino il suo intervento questo l'ha soltanto portato per fortuna la barriera laterale ha dato lui una mano va a cadere di testa contro la croce la mirata 100 punti non si prende di testa la croce sulle barriere in questo momento Waller Cruz il primo anzi no Gianni Are recupera fiato nuovamente intervento del direttore di gara sono passati quasi 5 minuti adesso se non sbaglio della prima frazione di gioco il primo tempo 6 per l'esaltezza grande precisione puntualità da parte del direttore di gara nuovamente scambio Frazeggio frazeggio la remarca che però non riescono a cogliere spessi ha segnato il capitano no non ha segnato infatti il gioco riprende con uno shutout quindi comunque una situazione favorevole per la nazionale danese che cerca di superare il quartiere e dice no voleva buffeggiarsi del portiere voleva buffeggiarsi del portiere invece il portiere l'ha preso in giro con la parata vi ricordiamo di non fare arrabbiare il numero 12 pilandese il nostro carissimo amico gentile Tony Tony we are your friend attenzioni ruba uvasoni regolarissimo subito dopo il fischio per la fine del primo tempo quindi situazione di vantaggio in questo momento anche loro si ritirano per un tecc al percorso